Nel campionato di seconda categoria sta rischiando i play-off l'FCD Calcio Giarre. In attesa che si risolva la querelle con il Comune per il regionale, con la società del presidente Giuseppe Siligato che ha presentato un esposto alla procura della Repubblica di Catania e alla stazione dei Carabinieri di Giarre, la nuova dimora dei gialloblu, l'Angelo Rossi di Fiumefreddo di Sicilia, non porta bene visto che nella sedicesima giornata del campionato di seconda categoria il Graniti, ultimo in classifica nel Gironè, passa 2-1. All'FCD non basta, il gol diventa l'oro e al momento l'undici di Salvo Giordano è fuori dai play-off, nonostante il quinto posto in quanto il secondo dista 11 punti. Domenica al Grimaldi contro la Niurandazzo, altro fanalino di coda del campionato, non si può proprio sbagliare. Invece continua il suo momento positivo lo Sporting Pasteria, che conquista un prezioso 2-2 a Zafferana con le reti di Brian e di Mauro. A 19 punti i ragazzi di Orazio Musumeci sono tranquillamente a centro classifica. Sabato al Calan arriverà l'Atletico Aci San Filippo, squadra in lotta per un posto nei play-off.